Ci sono piccoli problemi della vita quotidiana che però possono causare grandi disagi, soprattutto se nessuno fa nulla per mettervi mano e si prolungano da tempo. È il caso, per esempio, che si riscontri in un palazzo in via Gino Capponi 76 a Roma, rimasto di nuovo senza acqua e a poco più di 24 ore dall'ultima interruzione. Era la mattina di sabato quando il servizio era finalmente tornato a funzionare dopo essere stato assente dalla tarda serata di giovedì, ma questo non aveva tranquillizzato gli abitanti dei 36 appartamenti che solo nell'ultimo mese hanno dovuto sopportare quattro interruzioni. Ora è arrivata la quinta, i disagi sono iniziati nel pomeriggio di domenica e sono proseguiti fino alla mattinata di ieri, lunedì. Michela Damadei, avvocatesse residente del palazzo, ha spiegato alla stampa che il problema si è presentato nell'estate di tre anni fa ma si è intensificato nell'ultimo periodo. Per questo Damadei ha inviato una peca da CEA per chiedere di risolvere il problema e soprattutto individuarne le cause, mentre l'amministratore del condominio il 18 aprile ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia di stato di Spinaceto, i disagi per i condomini stanno diventando veramente pesanti da sopportare.